È un libro che io ho scritto, ho iniziato a scrivere quando vivevo a Mosca, lavoravo all'Accademia delle Scienze Russa, Istituto di Letteratura Mondiale, Dipartimento di Teoria della Letteratura. Ho imparato molto lì, ho imparato a leggere, ho imparato un metodo di lettura che poi ho desiderato moltissimo portare in Italia ed è il lavoro che stiamo facendo. Poi per la mia vita io mi sono trasferita in Ucraina, ho vissuto cinque anni in Ucraina e questo libro è davvero attuale perché è l'incontro tra la letteratura e uno dei punti più caldi di quello che sta succedendo nel mondo adesso. Bisogna saper leggere in generale e io penso che noi non sappiamo leggere e non ce ne rendiamo nemmeno conto perché imparare a leggere vuol dire innanzitutto imparare ad ascoltare e credere che è possibile arrivare a sentire la voce dell'altro, quello che l'altro davvero ci vuole dire. I testi letterari, le grandi opere letterarie artistiche sono parole importanti per tutta l'umanità, per tutto il mondo, sono come dei macini, ma nel senso proprio di tesori immensi che noi possiamo usare, possiamo guardare per affrontare quello che abbiamo da vivere oggi. Il problema è capire che cosa ci comunicano questi tesori di esperienza. Per noi l'incontro con la professoressa Kasatkina, questa studiosa russa che ha di fatto creato questo metodo, è stato un regalo. Noi abbiamo capito che c'è questa urgenza, c'è questa urgenza nella scuola, c'è questa urgenza tra i giovani e certamente ci siamo messi in moto per poter comunicare ad altri quello che abbiamo ricevuto. L'associazione non a caso si chiama Il Mondo Parla e ha un sottotitolo che è una domanda e noi sappiamo ascoltare. Ecco, questo è il tentativo del nostro lavoro. Grazie.